Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Drum Experiments. Questo video in realtà avrei dovuto farlo un po' di tempo fa, in quanto vuole spiegarvi la procedura di download delle backing tracks ed il relativo materiale allegato, ma purtroppo per vari motivi insomma non ci sono riuscito. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, da settembre dell'anno scorso ho iniziato a pubblicare delle backing tracks, quindi delle basi disponibili per tutti gli strumenti moderni più comuni, con le quali esercitarsi nell'improvvisazione e nell'accompagnamento di brani musicali di diverso genere e difficoltà. Ovviamente quelle che sono disponibili adesso sono poche, però prevedo di caricarne altre a poco a poco. Dopo tutte queste chiacchiere andiamo al dunque. Tutte le basi sono scaricabili in formato non compresso nel mio blog e sono accompagnate da partiture in formato pdf. Inoltre potete scaricare anche i video per poter aggiungere la vostra esecuzione. Per poter scaricare le basi basterà andare nel mio blog tramite il link in descrizione. Quindi ora ho preso un video appunto di esempio, andiamo qui giù nella descrizione del video, facciamo mostra altro e troveremo appunto i link di cui vi parlavo. Uno è in italiano, uno in inglese. Noi facciamo un esempio con quello in italiano. Una volta giunti nella pagina dovete considerare che le basi sono praticamente disposte esattamente come le lezioni di batteria, quindi in ordine cronologico. Più scendete e più trovate il materiale nuovo. Dopodiché cercate la base che vi serve, quella che desiderate e al di sotto dei video incorporati a youtube troverete i link di download. Praticamente sarebbero questi. Vi faccio subito un esempio. Voglio scaricare la base funk per batteria. Al di sotto del video appunto incorporato trovo le varie versioni della base. Scelgo quella che desidero. Prendo la base senza clic e percussioni. Clicco. Vengo riportato all'interno della pagina di Google Drive. Una volta qui basterà semplicemente cliccare sul tasto scarica per avviare comunque il download sul computer. La stessa operazione va fatta sia per i file pdf che per i video. Vi faccio un esempio veloce. Ad esempio il file pdf. Clicco. Ho anche l'anteprima quindi volendo lo potete anche visualizzare dallo schermo del vostro computer, tablet, telefono. Oppure lo potete comunque scaricare da qui. Basterà andare direttamente sul tasto scarica. Stessa cosa per il video. Come vi dicevo, come potete vedere qui ho fatto una piccola spiegazione riguardo il discorso video. Scarica questo video. Intanto vi faccio vedere come appare la schermata. Quindi avrete il preview del video. Da qui lo potete scaricare oppure guardare per poterci suonare sopra. Ok, spero che queste basi appunto vi piacciono, che il video sia stato utile. In caso contrario mi potete contattare sulla pagina facebook ufficiale, via email, qui su youtube o dove vi viene più comodo esternando i vostri dubbi, perplessità o dandomi anche dei consigli e suggerimenti. Naturalmente cercherò di rispondervi al più presto. Lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi caricamenti. Ricordatevi di premere il campanellino accanto al tasto iscriviti per rimanere aggiornati su tutte le mie attività. Come sempre vi ringrazio per tutto, vi auguro buon divertimento, buon lavoro e ci si vede nella prossima puntata di Drum Experiments. Ciao!